Una città bloccata nel suo sviluppo politico e amministrativo è l'accusa lanciata dall'opposizione che questa mattina si espressa attraverso le dimissioni dei Fabio Rodante e Massimo Milazzo. Secondo i due sarebbe ormai impossibile svolgere in maniera serena il proprio mandato in un clima che definiscono di veleni e guerra a colpi di denunce e querele. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.